AWC, Portuguese Perpetual Calendar, eleganza senza tempo e complicazioni senza fine. L'AWC Portuguese Perpetual Calendar nasce dalla famiglia di orologi Portuguese, che ha origine negli anni 30, quando alcuni commercianti portoghesi commissionarono a AWC un orologio da polso con la precisione di un orologio da tasca. Il risultato fu un orologio noto come Portuguese, in onore dei clienti che lo avevano ispirato. Il Portuguese si affermò come uno degli orologi più classici e eleganti di AWC, e nel tempo si arricchì di diverse varianti e complicazioni, tra cui il cronografo, il tourbillon, il calendario annuale e il calendario perpetuo. Quest'ultimo fu introdotto nel 2003, con il modello referenza 5021, con riserva di carica di 7 giorni e indicazione della data, del giorno, del mese, dell'anno a quattro cifre e della fase lunare. Il quadrante, disponibile in diverse colorazioni, presentava quattro contatori simmetrici, che conferivano all'orologio un aspetto armonioso e bilanciato. Nei primi anni 80, Kurt Klaus, l'allora capo orologiaio di AWC, inventò il calendario perpetuo, lanciato nel 1985 con il modello Da Vinci Perpetual Calendar, ed è formato soltanto da circa 80 componenti e indica la data, il giorno, il mese, l'anno a quattro cifre e le fasi lunari. Il programma meccanico intelligente riconosce automaticamente le diverse durate dei mesi e aggiunge un giorno bisestile alla fine di febbraio ogni quattro anni. L'indicazione delle fasi lunari, inoltre, è talmente precisa da presentare uno scarto rispetto alla fase reale della Luna di un solo giorno dopo 577,5 anni. Tutte le indicazioni sono perfettamente sincronizzate e si possono regolare ruotando semplicemente la corona. Alcuni modelli sono dotati di un ulteriore cursore dei secoli, così l'orologio potrà continuare a mostrare la data fino al 2499. Il calendario richiede solo una piccola regolazione negli anni secolari non bisestili, come nel caso del 2100, 2200 e 2300. Alcune versioni del calendario hanno doppie indicazioni delle fasi lunari e mostrano le fasi lunari negli emisferi nord e sud. AWC Portugase Perpetual Calendar Tourbillon Si tratta di un modello che combina il calendario perpetuo con il tourbillon volante, una complicazione che elimina gli effetti della gravità sul bilanciere, aumentando la precisione dell'orologio. Attraverso il tempo, la collezione si è evoluta introducendo nuovi calibri, materiali e design, mantenendo sempre l'eleganza distintiva del marchio AWC.